Il territorio è un territorio nascosto e imprigionato dalla recinzione, al di là della ferrovia, che ha questo nome perché sulla mappa ha la forma di una goccia. È l'area dei gasometri. È un bosco, ma purtroppo è un territorio inclinato dalle fabbriche che c'erano in tempo. Il comune vorrebbe bonificarlo e poi cementarlo, costruirci sopra una bovisa 2. Abbiamo bisogno di aria pulita e di natura. Per noi e per il futuro dei nostri figli. No al cemento. Sì, al parco goccia. Grazie a tutti.